Buonasera Andrea, buonasera degli spettatori di Honda TG, eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'Aforisma. Stasera voglio parlare di quelle persone un po' svogliate, di quelle persone che quando devono fare una cosa dicono ma lo faccio dopo, dopo lo faccio, quelle persone che magari non hanno tutta questa velocità nel fare una cosa che lì per lì impiegherebbe poco tempo e poi magari le stesse persone sono obbligate a fare quella cosa impiegando un tempo decisamente maggiore. Capita spesso, no? Per non apportare un piccolo accorgimento a una qualunque situazione, capita che poi quell'accorgimento diventa invece un grande rimedio che comporta un certo dispendio di fatica e di energia. Se dice a Sulmona, in dialetto nostro bello chiaro e lambante, che è Tradotto, il cane lento non volle fare un passo ma poi ne fece cento. E che significa? Quando parliamo di cane lento intendiamo il cane, ecco, svogliato, il cane lento nei movimenti, il cane, non quel cane arzillo che parte, non il volpino, il pincher, se cane cucine sempre pronto all'attacco. No, ma parliamo di quei cani anche la flema, proprio che i cani, tranquilli, che ne ne vogliono fare niente. Allora il cane lento che può essere il cane da caccia, che può essere il cane pastore, che può essere il cane da guardia. Il cane lento che non vuole fare un passo, immaginiamo il cane pastore che sta lì alla guardia del Grigio. C'è la pecora che si allontana di un po', quel cane per non alzarsi e rimettere, rimandare, respingere la pecora al suo posto, sta là, bene tranquilli. Poi capita che la pecora si dà di corsa, si mette al coro e si allontana di parecchio, il cane pastore dovendo ottemperare i suoi obblighi, poi è costretto a correre, rincorrere la pecora, farsi quindi un bel tratto, magari pure da montagna, e rimetterla, rimandarla nel Grigio. Quindi per non aver fatto un passo quando la pecora si era scostata dal Grigio, ha dovuto correre poi parecchio per riprendere la stessa pecora e riportarla indietro. Lo stesso il cane da caccia. Quante volte magari il cane da caccia per non andare a stanare una selvaggina dietro una siepe, poi è costretto che quando la selvaggina esce e corre, scappa, è costretto il cane ad inseguirla. Quindi per un banco pass poi deve truttare dietro. Il cane da guardia sente un rumore, piuttosto che avvicinarsi e abbaiare, non lo fa subito, il rumore magari si trasforma poi in qualcuno che salta il recinto e il cane da guardia deve faticare non poco per frenare questa persona che tende ad entrare in casa. Sono esempi così per spiegare quando quelle situazioni di facile soluzioni noi le lasciamo andare e queste situazioni diventano poi di difficile soluzione. succede a noi persone, spesso e volentieri, che, ma anche per questioni di salute, delle volte ci sono persone che magari ha qualche problema, dice fatti vedere da un medico, no vabbè ma ora se ne passa, una stupedaggine ora se ne passa. e magari è costretto a stare poi un mese a letto per una buona cura perché quello che pensavo che fosse una stupedaggine si rivela essere una cosa un po' seria e trascurandola non si fa altro che dover poi provvedere con dei rimedi abbastanza duri, abbastanza lunghi. quindi ogni volta che si sottovalutano le cose, ogni volta che si dice ma se sta stupedaggine lo faccio dopo, quel dire lo faccio dopo significa impiegare poi le giornate intere per sistemare, per risolvere. succede tantissimo. succede all'impiegato che ha la scrivania con le sue carte sopra. quante volte nella negli uffici c'è l'impiegato che c'è il vizio di piena pratica dopo la faccio e la mette là. arriva un'altra pratica ma si si dopo la faccio e gli si fa una pila di pratiche che poi per fare quella pila di pratiche non gli bastano i mesi. allora tutti quell'insieme di lavoretti che si potevano fare in mezz'ora, in quattro d'ora ognuno a mucchia di là, diventano poi un lavoro di parecchi giorni di fronte al quale passa anche la voglia di farlo perché poi subentra anche lo scoramento. dice, oddè, è buono il regalo a fare tutte queste cose? oddè, a dove mette la mano? ecco quindi il fatto del cane lento che non fa un pass, poi ne fece 100 e quindi il cane lento sono tutte quelle persone che per non fare una cosa così rapidamente in 448 poi corrono al punto tale da non arrivare più con i loro tempi. parlando di cani invece non lenti ma di secuci, quindi di cani di razza veloci fatemi fare gli auguri, non perché sia un cane ma perché è un vero secucio a una persona, un imprenditore di Sulmona, a Evaldo Ranalli, un imprenditore qua nella nostra parlata di Sulmona che lo scorso weekend ha festeggiato 60 anni, ha festeggiato il compleanno 60 anni e mi dicono dalla regia che ha fatto una bella festa alla quale hanno partecipato diverse persone lui è un imprenditore nel ramo degli infissi dà da lavoro a diverse persone e in questi tempi così difficili dove tante ditte purtroppo non ce la fanno o tanti cani lenti si demoralizzano il buon Evaldo invece è uno di quelli che corre, corre subito e ha avuto il coraggio di ampliare la sua attività spostandosi addirittura in un'altra sede di fronte alla Magneti Parelli ha ampliato la sua attività, dà da lavoro a parecchie persone ma per noi di Onda TV, lo dico francamente anche se io non faccio parte di Onda TV ma la sento come una mia famiglia per noi di Onda TV Evaldo è uno di quegli imprenditori è uno di quelle persone che ci ha sempre dato fiducia ha sempre dato la sua collaborazione si è sempre rivolto a Onda TV per le sue pubblicità per qualunque cosa quindi è uno dei sostenitori di questa nostra piccola emittente che in questi tempi altrettanto difficili specialmente c'è stato pure il cambio di canale qua con un problema di segnale se vede o non se vede eccetera Evaldo è stato uno di quelle persone che ha contribuito a mantenere in bieti e a far migliorare la qualità dei servizi offerti da Onda TV non è l'unico, ce ne sono tanti altri imprenditori come lui altri purtroppo invece davanti alla prima difficoltà hanno preferito non collaborare più con Onda TV ma lui invece io gli faccio dire gli auguri a nome mio e a nome di tutto lo staff di Onda TV più che altro per la sua fedeltà alla nostra emittente per il suo buon cuore oltre al fatto che è dato lavoro a diverse persone e io in qualità di sulmonese, di sulmondino che vedo buono qualunque cosa di bello che si fa per questa vallata laddove si fa qualche cosa di bello per questa vallata io sono sempre contento faccio anche i miei complimenti a coloro che stanno organizzando la giostra cavalleresca perché sabato e domenica prossimo per fortuna dopo due anni di stop forzato si rifà la giostra cavalleresca e con grande orgoglio da maresciallo dei carabinieri dico che quest'anno partecipano alla giostra cavalleresca di sulmona sia sabato 30 che domenica 31 parteciperà a un trappello del quarto reggimento carabinieri a cavallo di Roma il quale trappello dei carabinieri faranno una rievocazione della carica di Pastringo quello che è il carosello storico è una bellissima manifestazione questi carabinieri in grande uniforme con la sciabola quindi una cosa bella da vedere la faranno in piazza prima dell'inizio delle competizioni è una manifestazione che apre ogni palio di Siena è una manifestazione che fanno in ogni visita di stato che fanno i capi di stato qui in Italia è una manifestazione che fanno in bui giri in tutta Italia perché è il fiore all'occhiello del reggimento dell'arma dei carabinieri e quest'anno arricchirà ulteriormente la già bella e prestigiosa giostra cavalleresca che io invito tutti quanti ad andare a vedere detto questo vi saluto a tutti vi auguro buona giostra e congratulazioni di nuovo a Evaldo Ranalli per il suo sessantesimo compleanno continuate a seguire OndaTV anche se c'è ancora qualche piccolo problema tecnico non ci abbandonate presto vi daremo un servizio migliore salve arrivederci ciao 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 ciao